Un sistema criminale originale e complesso, quello che ormai si è insediato a Roma. Le mafie tradizionali, Indrangheta, Cosa Nostra e Camorra convivono con quelle autoctone e le straniere. Intorno killer di professione, broker internazionali e segmenti del settore delle professioni. Un mostro a più teste, capace di infiltrarsi nel tessuto socio-economico della capitale. È lo spaccato malavitoso che emerge dal quinto rapporto delle mafie nel Lazio. Occorre proteggere i fondi post-covid dalle attenzioni dei clan all'avvertimento del prefetto di Roma piante dosi. Preoccupa soprattutto la diffusione della criminalità nelle periferie dove agiscono le narcomafie, gruppi che gestiscono sì il traffico di droga, ma praticano anche l'usura, l'estorsione e il recupero crediti con il metodo mafioso. Nel 2019 nel Lazio è stato portato a termine quasi il 15% delle operazioni antidroga avvenute sul territorio nazionale, sequestrati 3.691 kg di stupefacenti. In un anno sono state indagate per reati di mafia o aggravati dal metodo mafioso 473 persone, oltre 10.000 alle operazioni bancarie sospette.